Il mio lavoro, io veramente non ho niente da aggiungere, voglio lasciare veramente tutte le belle mostre che sono salite, tutte le belle mostre che avete ascoltato, quindi se adesso io vi vado a fiduciare le mostre con altre mie parole, sicuramente vi sorgo dal ricordo di quello che avete seguito. Prima di andare a fiduciare quello che avevo detto prima, consentitemi a nome del mio personale e dell'amministrazione militare dell'assessore di Tiaudi, lasciare un piccolo ricordo della nostra città e anche ai nostri ospiti. Grazie 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 Sono anche se io ho pensato che non si possono mai identificare le persone che lavorano dietro del kit. Sono anche se io ho pensato che non si possono mai identificare le persone che lavorano dietro del kit. Grazie.